Ciao ragazzi, a tutti un buon Natale. Quest'anno ho scelto la versione video perché mi sembra di essere più vicino a voi. Grazie per esserci ancora dopo tutti questi anni, grazie perché non cessinerete immediatamente questo video, lo so, e grazie per i messaggi che ogni tanto ci scambiamo, ci fanno sentire comunque ancora vicini dopo tutti questi anni. Un buon Natale sincero a voi, a tutte le vostre famiglie, a tutti coloro che amate, a tutti coloro che in qualche modo hanno un posto nel vostro cuore. Che questo Natale sia pieno di significato e ci ridia quella speranza che forse negli ultimi anni sia un po' appannata e che il 2016 sia pieno di quelle soddisfazioni che si radicano in profondità e che si fanno ricordare. E la speranza di rivederci presto ancora. Grazie e un saluto a tutti.